In un periodo in cui si cerca di far chiarezza sul significato corretto della definizione esatta di congiunto, è proprio sui congiunti che si scatena l'ennesimo scontro politico tra consiglieri di opposizione e il sindaco Lucio Greco. Un clima tesissimo tra le due fazioni che ormai senza dubbio superato il livello di guardia. E se da un lato le scaramucce sui ricorsi dopo le elezioni prima e il caso Fenice dopo avevano scavato un solco profondo tra i due schieramenti, l'ultimo caso legato al metodo di assegnazione degli incarichi legali rischia di aprire un nuovo fronte di guerra tra il sindaco e il gruppo dei consiglieri dei partiti di centrodestra. La bomba della presunta Parentopoli, almeno così l'hanno ribattezzata i consiglieri dell'opposizione, scoppia intorno al pomeriggio di domenica con un comunicato stampa diffuso da tutti i componenti del centrodestra. Secondo i consiglieri non ci sarebbe stata trasparenza negli incarichi legali fiduciari che vengono assegnati dal dirigente di settore secondo delle regole di turnazione che il sindaco Lucio Greco ha autorizzato ad appena 12 mesi dalla sua elezione, uno in particolare conferito dal comune all'avvocato Paola Greco, nipote del sindaco. In uno dei sei incarichi conferiti alla nipote del sindaco in meno di un anno, scrivono nel comunicato diffuso ieri, l'avvocato Paola Greco, figlia del fratello del sindaco, ha accettato l'incarico conferito dall'amministrazione diretta dallo zio di difendere il comune di Gela contro un avversario di famiglia, il cugino, l'avvocato Mario Greco, il figlio del sindaco. Per meglio intendere e rincare al centrodestra, il figlio del sindaco fa causa al comune chiedendo un risarcimento per la sua assistita e l'amministrazione pensa bene di contrastare la pretesa e sostanzialmente di difendere i propri diritti e le proprie tasche nominando quale suo difensore Paola Greco, la cugina di Mario Greco, la nipote del sindaco. Il comune, si domandano alla fine del comunicato, è entrato in conflitto di interessi o il comune è solo un affare di famiglia? Affare di famiglia o no, la vicenda è ingarbugliata. Secondo il vice sindaco Terenziano Di Stefano, firmatario di alcune delle delibere in oggetto in assenza del sindaco, gli incarichi assegnati all'avvocato Paolo Greco sarebbero 5, non 6 e 3 di essi sarebbero rinnovi di incarichi dati prima dell'insediamento dell'attuale giunta. Gli altri due invece sarebbero stati assegnati con il criterio oggettivo del regolamento in vigore dal 2017. Noi siamo venuti qui in comune per chiedere una replica del sindaco Lucio Greco che dopo ben 30 minuti di anticamera però ci ha fatto sapere che non intende per il momento rilasciare dichiarazioni ma preferisce affidarsi alle parole del suo comunicato stampa. Rispettiamo naturalmente la decisione del sindaco ma forse era il caso di poter parlare direttamente per esprimere la sua posizione. Secondo Greco comunque quanto accaduto troverebbe delle spiegazioni amministrative e politiche. Saranno il segretario comunale e il dirigente del settore a chiarire la vicenda sul piano strettamente tecnico e giuridico scrive nel breve comunicato diffuso ieri sera poiché la decisione di assegnare un incarico è atto gestionale di competenza del dirigente. Sindaco e giunta non hanno alcuna competenza. Successivamente conclude farò sentire la mia voce la farò sentire in maniera forte perché da tutti posso ricevere lezioni di moralità ma non da chi è implicato in vicende giudiziarie ed estrema delicatezza e un colpo basso che verrà chiarito in tutti i suoi aspetti e in tutte le sedi. Le tante ruggini della campagna elettorale intanto si sono trasformate in un duello politico all'arma bianca che non fa per nulla bene alla città.